Il gioco che vedete sulle pareti è il gioco. Ogni tessera è stata di 50 a mano, singolarmente. Al centro troviamo la rappresentazione dei due geni, che sostengono la corona dall'oro con un bacchetto oro e al centro troviamo, posizionata su una lastra di portico, quindi un bar molto pregiato, l'effigio di Giuseppe Vierni. A sinistra troviamo una figura maschile alata dalla rappresentazione del genio della musica, che si genuflette e molto probabilmente cerca di accacciare il terreno di all'oro sopra la tomba di Giuseppe Vierni. Allo stesso modo avviene nell'apparecchio a destra. La rappresentazione della musica e del canto è dato, fanno scivolare delle rose e dei fiori sulla tomba di Giuseppe Vierni.